A buona matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro cicciocamero89 non mi chiedete perchè ho il cappello, perchè in realtà ho i capelli che fanno schifo ah ah ah, guarda che no, zzzzz, sembro Goku va bene, rimettiamoci il cappello di Gears of War siamo qui perchè quest'oggi parte un contest che durerà al massimo 5 giorni vi metterò le date qui in alto quando finirà in collaborazione con AUPEG Italia e Cooler Master Italia se avete capito bene ragazzi ebbene si, ci saranno ben 3 premi da dare a 3 estratti casualmente ve lo spiego adesso e ve lo spiegherò dopo dopo che ci saranno le fantastiche slide fatte da me anche se non sono capace voi dovrete mandare innanzitutto un messaggio a un indirizzo email che vi dirò dopo con scritto ciccio AUPEG Cooler Master tutto attaccato, glielo mandate così loro lo prendono nel loro database e poi fanno l'estrazione vi contatteranno loro e vi spediranno loro le cose e questo diciamo che io gli sto facendo un supporto a loro così ve lo dico anche a voi così magari qualcuno di voi si vince a stare ubetta ovviamente dovrete mettere i pollici in su sia a questo video qui che state vedendo lo dovete condividere e dovete mettere mi piace alle nostre 3 pagine di facebook che troverete qui sotto voi dite ammazza quanta roba devo fa' ragazzi uno c'è lo spongebob che vi guarda io starei zitto e non direi niente e comunque sapete benissimo anzi lo vedrete che costa tanto sta roba è una signora roba quindi io incomincierei subito se avete domande scrivete qui sotto o contattate comunque Outpage o Cooler Master al prossimo video ed eccoci qui come promesso fra le slide di questo contest come detto siamo in un nuovissimo contest offerto da Outpage Italia Cooler Master e ci saranno 3 fortunatissimi estratti scelti ovviamente a caso il primo estratto ragazzi si prende non poco che una HD PVR Gaming Edition Plus della Outpage per registrare i vostri videogiochi su qualsiasi console il secondo estratto si prende non poco una tastiera Quickfire della Cooler Master ottimo prodotto il terzo classificato non per mancare c'è un bellissimo mouse inferno e un bel tappetino della Cooler Master volete sapere come partecipare? questo è molto facile basta mettere i pollici i pollicioni in su alle nostre pagine facebook di Outpage Italia Cooler Master e di CiccioChemere89 link in descrizione in più dovete mandare un'email a conteschiocciolaoutpage.it scrivendo la parola d'ordine Ciccio Cooler Master Outpage così mandando questa email parteciperete e avrete la possibilità di vincere questi fantastici premi ricordatevi di mettere un bel mi piace a questo video di condividerlo e di lasciare un bel commentone ciao ciao Grazie a tutti.